Vanessa Traini Pagiarossi, bussi sul tirino Pescara, la veterana del team, donna allieva secondo anno, passista veloce, per lei una vittoria in numerosi piazzamenti su pista, vice campionessa regionale, personalità eccezionale. Noemi Eremita Allieva primo anno di Santa Croce di Magliano Campobasso, passista, plurivittoriosa atleta della regione del 2016. Ha conquistato 4 vittorie su strada e 2 a cronometro individuali. 4 vittorie su pista, campionessa regionale velocità e corsa a punti su pista, quinto posto al campionato italiano su strada, sesto posto nella classifica nazionale di rendimento. Valeria Piscicelli 14 anni, Francavilla al mare Chieti, donna esordiente, secondo anno, atleta polivalente. Per lei, tanta gavetta nel 2016, con un piazzamento nei 10 su strada, un podio e tanti piazzamenti nei 5 su pista. E le onore a ciabocco 13 anni di corridogna macerata, donna esordiente primo anno. Vanta un curriculum di tutto rispetto nelle categorie giovanili e con un risultato di prestigio nella nuova stagione. La medaglia di bronzo conquistata a Silvelle in provincia di Padova al campionato italiano ciclocross.